Quando veniamo qui sappiamo che è sempre una battaglia sia per le condizioni del campo, sia per l'atmosfera e perché comunque è sempre un derby. Loro sono una squadra molto fisica e organizzata, quindi ci hanno concesso poche occasioni stasera, ma appunto come hai detto tu siamo stati bravi a reggere dietro e a sfruttare appena abbiamo l'occasione che abbiamo avuto. Abbiamo purtroppo perso un giocatore importante, però comunque quando accadono queste cose ognuno di noi è in grado di sostituire al meglio gli assenti anche perché chiunque di noi va in campo sa sempre quello che deve fare e dà sempre il massimo per dare il suo apporto alla squadra. Adesso rimangono tre partite prima della pausa che sono altrettanto difficili e importanti, quindi l'obiettivo è quello di arrivare il 29 facendo più punti possibile. Da martedì quando ci ritroviamo penseremo a quella di sabato con la Roma che sarà altrettanto difficile, poi ci sarà Bergamo che comunque è sempre una squadra che mette in grosse difficoltà tutte le altre, poi ci sarà l'ultima con la Sampdoria, quindi sai ogni partita è diversa, saranno tutte difficili.